Chi di voi nella vita ha avuto almeno una volta la febbre alta? Alzi la mano. Si sarà quindi ritrovato in questa condizione, a letto, con i brividi, dolori articolari e magari anche con un forte mal di gola. Sono sicura che la maggior parte di noi, di voi, in questa situazione si sarà rivolta al proprio medico per capire quale fosse il proprio stato di salute in quel momento e come ripristinarlo nel minor tempo possibile. Perché? La prima domanda che io faccio. Perché io in una situazione del genere devo rivolgermi al proprio medico e non pensare di dover semplicemente ascoltare il mio corpo e dargli la possibilità di fermarsi, mettersi sotto le coperte, prendersi un buon brodo di pollo e aspettare. aspettare che passi e uscire quindi più forti di prima da una sfida che il nostro corpo appunto ha avuto. Passa continuamente il messaggio che dobbiamo essere sempre perfetti, sempre al top, che non ci possiamo ammalare. Ultimamente c'è una pubblicità che passa continuamente dove c'è una ragazza che corre, si ferma perché ha un forte mal di gola e c'è qualcuno che gli dice, no, non ti devi fermare, c'è una pasticca, c'è una pasticca per tutto e anzi, invece di darti la confezione da 20 ti faccio la confezione da 40 perché così almeno ce l'hai sempre con te e sai che cosa prendere. Sono anche sicura che in questa situazione la maggior parte di noi, di voi, ha preso un farmaco, un farmaco che gli è stato consigliato dalla nonna, dalla mamma, la famosa tachipirina, semplicemente per abbassare la febbre, perché bisogna appunto subito ripartire. E senza fare alcun test, spesso purtroppo, gli sono stati somministrati magari anche degli antibiotici, sempre perché magari che c'è un pochino di mal di gola, cavolo, mi ha detto il fruttivendolo, mi ha detto la zia che basta che prenda un augmentino e tutto va bene. Quindi la seconda domanda che io faccio è, perché devo prendere un farmaco senza nemmeno sapere se è quello giusto da prendere? E è questo uso inappropriato dei farmaci che ci ha portato in una condizione drammatica oggi. Perché tantissimi batteri responsabili appunto di queste malattie, che per carità non sono gravi, spesso si possono autorisolvere, sono diventati resistenti agli antibiotici. Siamo tornati come nel Medioevo. Nel Medioevo si moriva per le malattie infettive, perché gli antibiotici non ce li avevamo, non li conoscevamo. Oggi ce li abbiamo, tanti fortunatamente, ma il loro utilizzo indiscriminato ha portato a far sì che questi batteri abbiano cominciato a difendersi e quindi che siano diventati resistenti. E quindi noi non abbiamo più armi contro molti di loro. Non so se avete sentito parlare del New Delhi. Il New Delhi è un batterio che si è sviluppato non tanto lontano da noi, nelle province qua di Massa Carrara, che è diventato resistente a tutti gli antibiotici disponibili. È una clepsiella pneumonica, una specie di batterio che generalmente dà una semplice cistite, può dare comunque delle banali infezioni. Ma se è resistente, se è divenuto resistente a tutti gli antibiotici, non abbiamo armi contro di lui e ci può uccidere. Quindi è probabilmente arrivato il momento di fermarci e di capire che i nostri comportamenti hanno poi delle conseguenze, delle conseguenze anche molto gravi. La terza domanda che io vi pongo è quella di fare un esperimento, di guardare la persona che è accanto a voi. Ha i vostri stessi occhi, i vostri stessi capelli? No. È diversa da voi. Questo perché noi siamo appunto unici, siamo tutti diversi. Perché allora io devo prendere lo stesso dosaggio magari della tachipirina, che magari in quel momento mi servo dell'antibiotico uguale al mio vicino? Quello che è stato fatto fino ad oggi è quello, in questo gruppo di persone, che potete vedere qua, di fronte alla stessa malattia, dare a tutti lo stesso tipo di trattamento. E soltanto il piccolo gruppo in verde non ha avuto effetti collaterali e il farmaco ha funzionato. Cioè era il farmaco adatto in quel momento e adatto a loro. Quindi quello che dovrebbe essere fatto invece non è quello di trattare tutti nello stesso modo, ma di capire qual è il farmaco adatto a me. Il dosaggio adatto a me. Una volta non era possibile fare questo, non lo sapevamo, avevamo trovato la malattia, il principio attivo, ok, trattamento standardizzato. Oggi questo è possibile. È possibile perché noi abbiamo un libretto delle istruzioni, che è il nostro DNA. Il DNA è una molecola che è formata da una doppia elica arrotolata, formata da una sequenza di quattro basi azotate, che si chiamano nucleotidi. Adenina, timina, citosina e guanina. E si trova all'interno del nucleo delle nostre cellule. Fate conto che si è srotolato alla lunghezza di due metri, e lì dentro c'è scritto tutto su di noi. Ed è unico per ognuno di noi. È la nostra impronta digitale. Dobbiamo semplicemente andarla a leggere. Madonna, sarà sicuramente un esame costosissimo, un prelievo dolorosissimo e difficilissimo, che io assolutamente non posso fare. Per andare a prelevare il DNA vostro, basta semplicemente un tampone boccale. È un tampone molto simile a un cotton fioc, che viene passato all'interno della mucosa boccale, si prelevano le cellule di sfaldamento, si trattano con determinati reattivi, e si può estrarre a questo punto il DNA. La tecnica migliore che abbiamo oggi a disposizione per l'analisi del DNA, e quindi per riuscire ad andare a leggere tutta quella sequenza, è il Next Generation Sequencing, il sequenziamento di nuova generazione. Una volta questo tipo di tecnica, all'inizio del suo esordi comunque, era disponibile soltanto in pochi centri specializzati, che non erano accessibili a tutti. Oggi invece è possibile fare questa analisi. Occorrono sicuramente ancora dei centri specializzati, del personale che sia addestrato, ma è fruibile da tutti noi. È un esame abbordabilissimo. Fate conto che quando è nato per fare il sequenziamento di un intero genoma occorrevano giorni, e si dovevano spendere migliaia di euro. Oggi è possibile fare questo esame in circa 3-4 ore, al costo di 100 euro. Quindi, con 100 euro, voi potete andare a leggere quei capitoli del vostro libro di istruzioni che sono coinvolti nel metabolismo dei farmaci. Perché quando noi troviamo un nuovo farmaco, troviamo il principio attivo e di conseguenza sappiamo anche qual è l'enzima che lo metabolizza. Ad esempio, alcuni di noi hanno una mutazione in alcuni enzimi che non ci permettono proprio di metabolizzare quel farmaco, che quindi non è adatto a noi, perché semplicemente è inefficace. In altri casi, invece, ci può creare degli effetti collaterali. In altri casi, ancora, ne serve semplicemente un dosaggio maggiore o minore. Quindi non soltanto il principio, ma magari è il dosaggio che deve essere aggiustato. Ma se noi non andiamo a leggere il libretto delle istruzioni, non lo sapremo mai. Quindi, per minimizzare gli effetti collaterali dei farmaci, e quindi far sì che siano nostri amici, quando questi appunto siano necessari, dobbiamo andare a leggere il nostro DNA. Quello al quale io sto lavorando, però, è quello di riunire tutte le informazioni che sono scritte nel nostro libretto di istruzioni in un semplice codice a barre. Un codice a barre che deve e può essere continuamente aggiornabile, dove c'è praticamente scritto tutto, tutto quello che ci serve per mantenere e migliorare il nostro stato di salute. Tra ad esempio la nostra capacità di metabolizzare alcuni farmaci. Vi faccio un esempio. Qualche tempo fa è venuta da me una signora a fare un prelievo, che era in gravidanza, e mi dice, dottoressa, senta, ma a me il ginecologo, per telefono, mi ha detto, guarda, hai la febbre, prenditi il paracetamolo, la famosa tachipirina. La tachipirina, infatti, è uno dei farmaci di elezione contro la febbre alta e che è uno dei pochi che è consentito in gravidanza per la maggior parte delle donne in gravidanza, ma probabilmente non per tutte. Perché questa signora mi ha detto, mi ha detto di prendere il paracetamolo, la tachipirina, ok, però io non mi ricordo, la mia mamma non si ricorda, se quando ero piccola e ho preso questo farmaco io ho avuto degli effetti collaterali. Come posso fare per saperlo? Next generation sequencing. Quindi andare a leggere quel gene che è coinvolto nel metabolismo del paracetamolo e capire se è adatto a lei. Se lei avesse fatto l'analisi del DNA e quindi la cosiddetta farmacogenomica, lo saprebbe e addirittura se lo ricorderebbe o non avrebbe avuto bisogno di ricordarselo se questa informazione fosse stata inserita nel codice a barre. Quindi qualsiasi medico avrebbe avuto la possibilità di andare lì con una semplice pistola a infrarossi e andare a scaricare tutti i farmaci che era possibile utilizzare per quella persona, tra quelli che avrebbe dovuto prescrivere ad esempio in quel momento. Tutto appunto in un codice a barre. Ma io direi ancora di più, non soltanto per quanto riguarda la farmacogenomica, ma tutti gli aspetti che ci riguardano e sono scritti nel nostro libretto di istruzioni. Perché se io vi dicessi ad esempio che se siamo intolleranti al lattosio potremmo essere depressi? Cosa c'entra l'intolleranza al lattosio? Vabbè, sono depressa perché non posso mangiare niente, guardo tutti che mi guardano e mangiano davanti e quindi sono depressa, ok? No. C'è una correlazione. Perché sempre nel mio libretto delle istruzioni, nel capitolo che riguarda la digestione del lattosio e quindi in particolar modo nel gene che codifica per l'enzima che serve per digerire il lattosio che si chiama lattasi, io basta che lo leggo e vado a vedere se funziona tramite il next generation sequencing per esempio. Possono essere utilizzate anche tecniche un po' meno sensibili che sono ancora meno costose rispetto al next generation sequencing che vi dicono guarda, ok, tu hai una mutazione in quel gene, non puoi digerire il lattosio. E questo cosa c'entra con la depressione? Perché se io non digerisco il lattosio, il lattosio arriva nel mio intestino indigerito. Nel mio intestino ci sono una serie di batteri che possono essere i nostri amici o i nostri nemici. O meglio, se noi diamo loro da mangiare le cose giuste, gli diamo un ambiente ottimale in cui vivere, loro ci aiutano nel mantenere il nostro stato di salute. Se noi li nutriamo in modo scorretto, in questo caso dandogli ad esempio del lattosio indigerito, viene utilizzato da batteri che sono nostri nemici e che fanno e producono una serie di molecole che hanno un effetto negativo tra cui inibiscono per esempio la produzione di serotonina. La serotonina è l'ormone del buon umore e è anche quell'ormone sul quale agiscono tutti i farmaci antidepressivi. Intoleranza al lattosio, quindi depressione, possono essere correlati. Non pensate che magari uno psicologo avrebbe tratto vantaggio nel sapere se siete intolleranti al lattosio e se riuscisse ad avere una visione più olistica della vostra unicità. E sapete anche un'altra cosa qual è l'eccipiente che si trova in tutti in quasi tutti i farmaci? È il lattosio. Quindi magari ok quel principio attivo io riesco a metabolizzarlo quel dosaggio è giusto ma cavolo io sono intollerante al lattosio quindi a me comunque quel tipo di farmaco mi fa male occorre che ne trovi uno dove come eccipiente non c'è il lattosio. Quindi all'interno di quel codice a barre ci dovrebbero essere scritte tutta una serie di informazioni che possono chiaramente con il vostro consenso essere utilizzate per mantenere il vostro stato di salute perché spesso facciamo le analisi sì è vero ma ogni volta ce ne dimentichiamo dobbiamo portarci dietro il cartaceo andiamo una volta dal gastroenterologo una volta dallo psicologo una volta dal neurologo e magari anche il medico in quel momento non ha la capacità di individuare un esame cui esito in realtà potrebbe avere un risvolto sulla terapia che può darvi vi ripeto uno di farmacogenetica e magari l'intolleranza al lattosio vi è stata prescritta dal gastroenterologo però è utile anche per lo psicologo è utile anche per il dermatologo perché ad esempio l'intolleranza al lattosio può essere associata la dermatite venite curati per una certa causa quando in realtà semplicemente basta togliere il lattosio dall'alimentazione quindi secondo quello che la scienza ci dice se vogliamo migliorare il nostro stato di salute mantenerlo dobbiamo per forza andare a leggere il nostro libretto delle istruzioni oggi che è possibile dobbiamo avere accesso e poter utilizzare queste tecniche senza se e senza ma grazie